Con l'1 apparizione mail, il 2 art mail, il 3 antella clai, il 4 abiclub mail, il 5 armando maradona, il 6 a 7, il 7 aria bag Rapporto di scuderia tra il numero 2 di art mail e il numero 4 di abiclub mail Con cautela dietro la macchina proprio abiclub mail Di galoppo art mail Allo stacco lottano su di una linea antella clai Armando maradona e aria bag dietro i quali ha ripiegato alla corda a siet Si accoda armando maradona davanti ad a siet, insiste invece allargo aria bag Quarta alla corda e apparizione mail davanti a abiclub mail Insiste aria bag e dopo 450 metri a il via libera da antella clai Completa il mezzo giro iniziale in meno di 36 Quindi strappo deciso per aria bag per assumere l'iniziativa Terza posizione per armando maradona davanti ad a siet, apparizione mail e abiclub mail Dopo l'uscita di scena di art mail I 6 superstiti in fila indiana con aria bag che comanda e sta per completare il mezzo miglio iniziale In 1 e 1 secco Gianni Palladino in salchi ad aria bag che ha seguito sempre da antella clai Sposta invece allargo a siet dalla quarta posizione a fianca armando maradona Poi apparizione mail in coda sempre abiclub mail Completato da aria bag sulla quale si affaccia ora antella clai Mentre armando maradona reagisce ad a siet Poi apparizione mail accelera aria bag e costringe Antella clai a tornare nella sua scia Quando mancano 300 metri da conclusione Aria bag in fuga da antella clai Più indietro armando maradona Paletto dei 200 finali con aria bag ancora in vantaggio Antella clai che prova a riproporsi Molto più indietro gli altri capeggiati da armando maradona Alla corda c'è aria bag Allargo antella clai che ci prova Più indietro a siet che attacca armando maradona E' sempre in vantaggio aria bag nei confronti di antella clai Vince aria bag nei confronti di antella clai Per il terzo è a siet che emerge Dovrebbe essere 7-3-6 L'arrivo ufficioso della prima di capannelle Sul mio cronometro 2-2 per la vincitrice aria bag con Gianni Palladino I colori di suoi colori Scuderia Il Gazebo Lucio Becchetti al training Rivediamo la retta d'arrivo con aria bag che difende la posizione da antella clai Dalla quale aveva rilevato il comando dopo 450 metri Si difende bene aria bag e va a vincere nei confronti della stessa antella clai Per i numeri 7 e 3 Molto più indietro vediamo che dovrebbe giungere al terzo posto Il numero 6 di Assiette Grazie a tutti